Tu dovresti andare dal dentista Paola, credi? Oh, io odio i dentisti. Hai delle otturazioni da rifare, altrimenti peggioreranno. Sì, ci penserò. Pensaci in fretta. Paola, puoi entrare se vuoi. Wow, non me l'aspettavo certo così. Lascia stare la musica, tesoro. Bene, ora occupiamoci di questo molare. Jessica, prepara il materiale per un'ottulazione. È stato Dennis a uccidere il cane, ne sono certa, è lui il colpevole. Come? Non hai sentito niente, gli edi. No, apri bene. Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ora lasciamo che l'anestetico faccia effetto. È successo dopo che sei andato via. Matt non l'ha sentito. Matt? E lui aveva detto le piscine. Quel Matt, è davvero attraente. Jessica, passami il trapano. Come si comporta Matt con voi? Abbiamo avuto un piccolo problema con il filtro ultimamente, ma credo che... credo che ora sia definitivamente riso... attraente. Ah! Dottore? 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 Che c'è? Potrei parlare un momento? Rilassati, Paola. Ah, cazzo! Torna su. Dottore? Ma cosa sta facendo con la piazzapano? Ha rovinato il dente di quella donna. Mi sta criticando, forse? Crede che non sappia quello che sto facendo? Dottore, io... Non si azzardi mai più, d'accordo, altrimenti la licenzio. Ho capito. Se io le dico di fare una cosa, la deve fare. Ora, dormi lì dentro e si occupi della paziente. Avanti! Lei può andare, signora. Dov'è finita? Ha voluto andarsene. È chiaro che non ha capito quali sono i suoi doveri qui dentro. I pazienti sopra ogni cosa. Doveva metterla più a suo agio. Mi scusi, mi sta rimproverando? Io non la sto rimproverando. La licenzio. E non si aspetti lettere di presentazioni. Il suo lavoro qui non è stato professionale.